Che bello vederti, sei stata via così tanto. Eri preoccupata? Certo che lo ero. Un viaggio tanto lungo. Hai fatto tutto ciò che dovevi? Sì. Ora voglio concentrarmi su problemi più vicini a casa. Bene. È finita. Gorm è morto. Il clan Chiotveson è stato cancellato per sempre. Bene. Vorrei sapere ogni cosa sul tuo viaggio in Villandia, quando avrai tempo. Un giorno. Grazie.